Nando Del Sole, match winner di giornata, hai realizzato una doppetta stratosferica. Che significato hanno questi due gol in un momento della partita molto delicato? Sì, sono molto contento, veramente lo aspettavo da tanto e come ho ribadito la scorsa volta quando sono entrato voglio dimostrare chi è Del Sole perché sicuramente l'anno scorso non ho fatto vedere proprio Del Sole perché sicuramente era ancora immaturo e adesso stando alla Juventus e per ritornare a Pescara perché è una piazza molto importante volevo togliermi qualche soddisfazione. Comunque l'anno scorso avevi dato prova del tuo talento soprattutto in avvio di campionato ti senti adesso un calciatore più maturo? Ma sicuramente, come hai detto tu mi sento molto maturo e spero di continuare così perché il Pescara lo merita per tutto quello che ha fatto per me. Il tuo ingresso in campo ha praticamente deciso la partita, i cambi hanno fatto la differenza tu ma anche Crecco, insomma questo dimostra la profondità della rosa del Pescara. Sì, ci siamo fatti trovare pronti, sicuramente la scorsa volta Crecco, adesso io. Siamo molto contenti, abbiamo una grande squadra e dobbiamo continuare così. Quanto è importante questa vittoria dopo due gare un po' particolari in cui avete stentato? Abbiamo un po' sofferto perché giocavamo ogni quattro giorni e un po' di stanchezza c'è però siamo contenti, dai.